Siamo alla 33esima edizione del mare d'inverno, ci occupiamo di pulire le spiagge per sensibilizzare tutti quanti durante il periodo invernale quando nessuno se ne occupa. In particolare ci occupiamo di raccogliere le plastiche e le microplastiche che il mare ci restituisce ogni anno. Siamo circa 50 volontari quest'oggi, lo facciamo perché crediamo che la sensibilizzazione non solo dei cittadini sia importante ma soprattutto debba esserci un momento di denuncia rispetto alla produzione. Noi crediamo che il primo elemento che contribuisca a non inquinare sia una produzione sana, non semplicemente un consumo sano. È tutto il ciclo della vita dell'oggetto che va curato dall'inizio alla fine. Come ogni anno troviamo purtroppo microplastiche, continuiamo a trovare bastoncini netto orecchie che il mare ci restituisce ormai pure se non più prodotti. Sono bastoncini di decine di anni fa, questo dimostra che le plastiche nel mare resistono centinaia d'anni. Saremo qua anche il prossimo anno finché non avremo una natura vivibile e come l'uomo merita. Grazie.